Ciao a tutti, allora scusate l'assenza ma adesso recupero come ho detto Allora, il 2, vi racconto, praticamente pensavo alla mattina di andare in palestra per sgranchirmi un po' le gambe Invece no, mamma mi ha rovinato i piani perché mio fratello è andato in posta e lei doveva andare da nonna In pratica, no, doveva fare la spesa, mi correggo, che praticamente era sabato, io ho mangiato pizza Sì, ho mangiato pizza che mi ha dato una mano E quindi praticamente mood della giornata, Giovanni non ha concluso niente, me non credo perché poi non me l'ha manco detto Vabbè, fatto sta, io sono rimasta di nuovo a casa dopo 5 giorni che sono stata a casa, sì E quindi nulla, praticamente avevo in programma una cosa ma a quanto pare è stata annullata Per vedere il fatto che mio padre non poteva rimanere da solo, tanto per cambiare Allora, a parte quello, nulla, mi sono annoiata tutto il giorno In più era tutta la giornata che praticamente... Aspetta, era sabato? Vabbè Praticamente poi, a parte il fatto della situazione qui, a parte quello, nulla Io adesso vi saluto e ci vediamo con il blog del 3 Tra l'altro mi sto avvicinando ad oggi Ciao!